buonasera a tutti ragazzi in questo video parleremo ovviamente nel 16 episodio di dino hunter eravamo arrivati nella quarta regione vi auguro una buona visione ok buongiorno di nuovo a tutti ragazzi in questo video parleremo ovviamente del 17 episodio di dino hunter o non si sa cosa accadrà spero che andiamo bene perché me la sto passando male con questo stupido arco che non è nemmeno un fucile buona visione eccoci qui ragazzi vediamo cosa riusciamo a fare nel 17esimo episodio avventura andiamo raga battiamo tra i tricerati a perfetto abatti quattro drome sauvi anziani aspettate a a a a a si mette male se non intervengo il polmone perfetto così me lo sono levato di mezzo continuiamo abbattiamo tre cori tosano a presto perfetto non mi scappa non mi scappa abbatti il piede veloce lontanissimo maledizione aspetta perfetto perfetto l'abbiamo abbattuto l'abbiamo abbattuto appena in tempo ragazzi meno male prossimo è la vipera ok facciamo l'ultimo partito della serie archi e abbiamo bloccato la serie fugi da caccia ok 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 Grazie. Ok, giochiamo. Perfetto. Grazie. Grazie. po di pubblicità, scusatemi. Edmontonia, e che cos'è? Boh... Abbattiamo tre montoni, vediamo che succede. Meno male, altrimenti questo mi uccide. Abbiamo completato la serie Archie, ma facciamo anche un trofeo. Uccidiamo la vipera. E finiamo da qui. E finiamo. E finiamo. E finiamo. Forza, 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 forza. Abbattiamo questa vipera. E finiamo. Finalmente. L'ho abbattuta. E si può congodere qui il video. Finalmente. Beh, ci spero che questo video di Dino Under, il diciassettesio episodio, completiamo finalmente la serie Archie, un trofeo. È il primo trofeo di calcio. Vi sia piaciuto? Scalcare. Mi raccomando, mettete un bel like su Instagram. E non ci vediamo nei prossimi video, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.